E' stata una cerimonia molto partecipata quella che ha visto l'assegnazione del premio per la qualità della vita alle donne e agli uomini della brigata marina San Marco e della targa di riconoscimento all'impegno per il territorio alla gazzetta del mezzogiorno. L'iniziativa organizzata dalla marina militare e dall'omonimo comitato per la qualità della vita presieduto da Carmine Carlucci ha visto la partecipazione di molte persone nell'enorme ex sala tracciare dell'arsenale militare marittimo di Taranto. A fare gli onori di casa è stato l'ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello comandante di Marina Sud che nel salutare gli ospiti e soprattutto gli studenti in rappresentanza delle scuole presenti all'evento ha sottolineato il rapporto stretto, il legame fortissimo che unisce la forza armata a Taranto, la sua città più rappresentativa riconosciuta come la capitale stessa della marina militare. Gli ha fatto eco il contramiraglio Roberto Dattola, direttore dell'arsenale che ha ricordato l'importanza del luogo in cui si è tenuta la cerimonia invitando i presenti a visitare la bellissima mostra storica allestita nei saloni attigui al padiglione dell'ex sala tracciare. Tra gli ospiti di eccezione il contramiraglio incongedo Romano Sauro, nipote di Nazario Sauro, medaglia d'oro al valor militare della prima guerra mondiale. Alla cerimonia è seguito un convegno di studi sulla grande guerra dal titolo le gesta dei massi e dei fanti di marina volto a mantenere vivo il ricordo dell'importanza ricoperta dalla reggia marina durante il primo conflitto mondiale. Tra i relatori moderati dalla giornalista Maristella Massari, il comandante della brigata marina San Marco contro ammiraglio Cesare Bruno Petragnani, l'ammiraglio incongedo Claudio confessore, il capitano di vascello incongedo Fabrizio Maltinti e il professor Antonio Fornaro del comitato qualità della vita. Oggi si è tenuto qui nella sala tracciare dell'arsenale il premio qualità della vita assegnato alla brigata marina San Marco che è una nostra realtà della marina operativa sempre pronta di intervenire al servizio del paese anche in occasione di calamità naturali come ha fatto ultimamente in soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia. Questa attività si è tenuta proprio in arsenale in questa parte dell'arsenale che già resa fruibile dal punto di vista museale la sala tracciare e le sale qui annesse proprio in questo programma di musealizzazione che va avanti e che renderà una parte dell'arsenale fruibile alla città di Taranto e agli studenti come abbiamo già visto oggi presenti in sala con il coro dell'alfieri che ha cantato sia l'inno nazionale che l'inno della brigata marina San Marco.